Buongiorno buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ATV per la nostra vostra rassegna stampa dalle marche dall'Italia fino al mondo con un click vi portiamo visto che piove e nevica in alcune zone d'Italia e fa freddo un po' in tutta Italia per diciamo così evitare di lamentarci troppo tutti quanti ecco un'immagine che ci deve rasserenare e se non se rinserà si rasserenerà, i più accorti, i più attenti avranno notato si tratta del partenone, siamo sull'acropoli di Atene colpita dalla tempesta Medea sotto una coltre di neve e così che vi diamo o vi ridiamo a seconda di chi ci abbia iniziato a seguire già alle 6.45 o ci segua nella riproposizione delle 13.30 e 14.30 il buongiorno, buongiorno che è fatto soprattutto di notizie legate perché no anche al meteo e allora oggi attenzione non è questa la previsione, questa è su domenica perché domenica si farà bello per il resto da mercoledì a giovedì con una pausa su venerdì ma anche sabato pioverà in maniera insistente la conferma viene da queste webcam che ci aiutano a sbirciare, a fare un giro delle marche, guardate questa che bellezza per esempio da San Benedetto ma le cose più belle vengono come sempre da voi, dal pubblico, questa è l'alba da Macereto verso il Monte Bove, guardate che meraviglia, è il regalo che ci fa oggi l'amico Saverio, fatte queste premesse ci tuffiamo sulle notizie, scriveteci 349 398 169, partiamo con l'informazione 5 notizie per 5 province Cantiano, iniziamo così, l'azienda agricola Morello che regala 1500 euro ai suoi dipendenti nella busta paga di dicembre, sono i cosiddetti fringe benefits, le aziende se hanno un po' di soldi hanno facoltà di farlo, non è obbligatorio, beati i dipendenti che hanno questi datori di lavoro che danno loro una mano in vista soprattutto del Natale e delle bollette, regole a proposito di bollette, antifurbetti ad Ascoli per ottenere gli aiuti taglia bollette, il comune mette dei severi paletti, il comune di Ascoli mette a disposizione dei soldi per le famiglie più in difficoltà, se ci seguite ad Ascoli contattate il comune all'URP, ufficio relazioni con il pubblico, per avere queste dritte, come faccio per avere questi soldi? Occhio perché non bisogna provare a fregarli. Camerino unita contro l'accorpamento delle scuole antinori e pocognoni, da Camerino ci sono arrivati diversi messaggi, tant'è che faremo un servizio su questo tema grazie al collega Andrea Fiano, voto unanime del Consiglio Comunale di Camerino per l'atto di indirizzo con cui si vuole chiedere alla provincia di Macerata di ritirare la delibera del Consiglio Provinciale relativa alla riorganizzazione della rete scolastica che prevederebbe appunto l'accorpamento delle antinori con le pocognini, se ci seguite da quelle parti fateci sapere. Poi c'è una storia straziante che trovate su tutte le prime pagine dei giornali, tra l'altro c'è una foto e io qui non ci posso stare, non ce la posso fare, c'è la foto di una ragazzina che non c'è più e non si può ammettere la foto di una ragazzina, dai. Un malore, la corsa all'ospedale, la tragica notizia che Isis, una ragazza di soli 15 anni appena compiuti 5 giorni fa, aveva fatto gli anni, non ce l'ha fatta. Nel momento più doloroso della vita di un genitore, la scelta di altruismo, di acconsentire alla donazione degli organi. Muore a 15 anni donati gli organi, sciocche e dolore a Monte Urano per questa ragazza, i tuoi sogni restano qui, la vita di questa ragazza continuerà attraverso coloro che hanno avuto la fortuna di ricevere la donazione dei suoi organi. Ancona palpeggia e bacia la collega vigilante a processo per violenza sessuale, l'avrebbe prima toccata in maniera insistente in varie parti del corpo, per poi baciarla con forza, non si può fare se lei non è consensiente. È il contesto accusatorio ricostruito dalla procura che ha portato a processo una guardia giurata di 43 anni per violenza sessuale. Ieri tra l'altro, questa viene da Ancona, ieri da Pesaro, vi avevamo raccontato di un imprenditore che per aver regalato un mazzo di fiori ha subito una denuncia. Anche un fiore, se è l'ennesimo, può diventare una questione legale. Scusa ma la foto di Atene di quando è? Sarà dell'anno scorso sicuramente. No, grazie, thank you, so kind of you. È di qualche giorno fa perché c'è una tempesta in corso, si chiama Medea e sta facendo il giro d'Italia e del mondo. È del 13 dicembre questa foto. Grazie comunque per questa richiesta. Buongiorno da Liliana che ci segue da Sassoferrato. Buongiorno, viva Sassoferrato, viva chi ci segue dall'entroterra. Mandateci foto anche delle vostre parti. Attenzione, andiamo a Pesaro, continuiamo questo giro marchigiano nazionale di news. Spuntano nuovi ordigni bellici, bombe d'aereo vicino al relitto. Abbiamo appena chiuso il capitolo del 4 dicembre, zona di case bruciate, la mega evacuazione di quasi mille persone a Pesaro. Di nuovo a Pesaro spuntano nuovi ordigni bellici, bombe d'aereo vicino al relitto, in mare davanti al San Bartolo, ma il maltempo fa rinviare il brillamento. Il relitto è stato trovato nel mare sotto la croce che vedete qua del San Bartolo. Bisognerà ancora attendere però per liberarsi di questo pericoloso relitto. Buongiorno, che sia una splendida giornata per tutti, ma grazie Fabio, che bel messaggio, grazie. Fabio Scaramucci, Margareta Crecciun, Emanuela Balzac, Baba Spoon, buongiorno, siete voi come sempre i nostri vostri protagonisti. Condividiamo insieme le vostre segnalazioni, anche quelle legate alla preoccupazione per l'influenza. Centomila marchigiani ammalati e il picco, tra l'altro, deve ancora venire su questo, e così cambio giornale, da Pesaro vado ad Ancona, su questo trovate un sacco di informazioni e una grafica soprattutto molto chiara, molto netta e nitida, ma non si parla più di Covid-19, che succede? Allora, il Covid c'è, i numeri però che cosa ci dicono? Che, vedete anche la curva, molto chiara, quella più in basso, credo sia rossa, fa riferimento alla curva del Covid, quella più in impennata, fa riferimento invece alla questione influenza. Trentamila, anzi 29.378 nuovi malati di influenza australiana, nella settimana 28 novembre-4 dicembre. Quasi centomila i casi segnalati da inizio del monitoraggio e qualcuno di questi lo conosco, come immagino anche voi, nelle vostre case, tra le vostre famiglie, nelle strutture scolastiche, avrete immaginato e notato che ci sono tanti bimbi che, ma i miei compagni, torna a casa la creatura a scuola, oggi eravamo in 5, in 6, in 7, che fine hanno fatto gli altri? Ecco, il tema è quello dell'influenza. Per quanto riguarda invece il Covid, siamo a 7.000, 7.070 i nuovi positivi per una curva che resta pressa poco costante. La vera preoccupazione però è questa qua, mancano 90 medici e il pronto soccorso non ce la fanno più. Si parla di carenza di personale per l'emergenza urgenza, per il pronto soccorso non ci sono medici. Si fa riferimento soprattutto all'area privata che viene strapagata per un turno, raccontavamo qualche giorno fa, si parla di anche oltre 1.200, 1.300, 1.400 euro per 10-12 ore di lavoro. E lo stesso spiega il primario Maracchini, i bandi per le assunzioni vanno deserti. Perché? Perché Brandoni della CISL conferma che tanti giovani preferiscono lavorare nel privato. Perché? Perché si guadagna di più e anche con meno faticosità, diciamo così. Buongiorno amici marchigiani, che bello ricevere il saluto di 6 Marchigiano Sé, una pagina mitica dove trovate un sacco di cose. Li voglio salutare, i protagonisti di 6 Marchigiano Sé, eccolo, ma c'è anche la sua dolce signora che ci aiutano a conoscere anche le bellezze delle nostre terre, ma anche delle nostre ricette per esempio. Come li chiamate questi qua? Mi pare che siano bombarelli, io li chiamo così, partecipo anche io al gioco. Sei marchigiano Sé, un abbraccio forte. Torniamo alle notizie stavolta nazionali. Perché? Perché la manovra è in corso di elaborazione in Parlamento. Si parla della legge di stabilità. Quella legge di stabilità che dovrebbe, secondo quanto abbiamo anticipato nei giorni scorsi, aumentare le pensioni minime a 600 euro. Sarà così difficile. Perché nel corso dell'elaborazione parlamentare, delle trattative in Parlamento, questi 600 sono già diventati 590. E non solo, non per tutti, ma per gli over 75. Quindi per il momento non ho buone notizie, non ho buone notizie sul fronte dei pensionati. Pensioni minime a 590 euro al mese nel 2023. Solo per gli over 75. Forza Italia insiste. non si accontenta della norma che alza gli assegni a 2,7 milioni di euro per i pensionati. Quindi saranno 8 euro al mese nel 2023. No, almeno arriviamo a 590. 8 euro al mese riceveranno i pensionati per arrivare a 570 euro. E poi 580 euro nel 2024. Quindi tra oltre un anno. nel partito di Berlusconi voleva 600 euro. Già l'anno prossimo, alla faccia dei famosi mille euro che erano stati promessi tanti anni fa, si fa fatica pure a ritoccare a 590. Intanto niente reddito di cittadinanza a chi non abbia finito gli studi. Giovani tra i 18 e i 29 anni beneficiari del reddito di cittadinanza, ma senza aver finito le scuole dell'obbligo. Dal 1 gennaio dovranno tornare sui banchi o andare a lavorare se non vogliono perdere l'assegno. Sì, ci sono anche ragazzi che prendono il reddito di cittadinanza, non lavorano e non hanno neanche finito gli studi. Altre notizie locali, regionali. Sfogliamo insieme i giornali per arrivare a questo tema qua. Sisma per lo stato d'emergenza. Pesaro e Ancona devono ancora aspettare. I soldi sono fermi, se arriveranno o quando arriveranno, perché ancora la protezione civile ha chiesto ulteriori spiegazioni, ulteriori carte burocratiche. Ma non vi stupiate, non vi stupiate perché c'è chi, e parliamo allora di alluvione, da tre mesi aspetta e ancora è senza un euro. Nessun risarcimento promesso è ancora arrivato a famiglie e aziende. Siamo in ginocchio. Eccole qua. Le parole degli alluvionati. Tre mesi di promesse, pochi lavori e nessun risarcimento. Il sindaco di Ostra ha 90 giorni dalla tragedia. Queste parole le dobbiamo ascoltare, ascoltare bene. Pochi lavori. Il sindaco di Ostra ha 90 giorni. Qui non è arrivato neanche un euro di quelli annunciati. Perché sennò può sembrare che hanno promesso loro dei soldi. A chi non è interessato direttamente dalla notizia penserà che questi soldi nel frattempo legittimamente sono arrivati. Niente di tutto questo. Per sistemare l'argine del Misa ho dovuto sollecitare. Tutte le volte che piove la gente va a letto vestita. Sono nostri corregionali, gente che va a letto vestita. Anche nel weekend abbiamo avuto una segnalazione di allerta meteo. Pensate, la paura di queste persone. Una paura che hanno avuto 40 anni fa e che se ci ripensano hanno ancora oggi le amiche e gli amici invece di Ancona che hanno raccontato ai nostri microfoni la frana dell'82. Qua la sera era le 10. Vedendo tutti gli ammalati che scendeva dall'ospedale con le coperte sopra che pioveva tanto, ce l'ho avanti agli occhi. La gente che piangeva, li vedo ancora e me le ricordo. Un boato. La terra che viene a mancare sotto i piedi. La strada e la ferrovia si accartocciano per due chilometri e mezzo. 280 edifici spazzati via per un totale di 865 abitazioni. Lesionati anche gli ospedali, la facoltà di medicina, dell'università, le imprese. Più di 3500 persone sfollate. Un quartiere, quello del borghetto, cancellato. Seri danni anche alla palombella e apposatora fino a torrette. E da lì, dopo la frana di Ancona, tra il 12 e dicembre 1982, il grande esodo. Una foto, un ricordo, un pensiero di chi l'ha vissuta sulla pelle. Io sono andato sulla strada, poi lì sopra c'erano le poste, c'era il tabacchino, c'era un benzinaio. Tutte queste cose non c'erano più. Dio, madonna, andiamo via, sono subito indietro. Andiamo via subito. Andiamo via con tutte le cose che c'erano. Io ho lasciato con l'uncicida e tutto. E' stato così un po' di fretta, però ragazzi miei. Il mio ricordo è che facevo l'autista quando era a Cotra e il capo controllore mi ha telefonato che era mezzanotte e mezza. Vieni subito al deposito perché c'è stata la frana apposatora e devi andare col pulma per portare la gente via. Che poi io sto tutta la notte lì e il pulma è stato fermo e la gente è venuta dentro al pulma per rifugiarsi. Vedevo che si cominciavano a crepare le abitazioni e allora fuggì, fuggì, ho preso mio padre e sono uscito in strada e già c'erano tante altre persone che pioveva, c'erano su cappotti, alamelli, ombrelli, ciavate, cominciavano a fare l'esodo. Quando arrivai a Piazzale Camerino non mi vergogna a dire che le mie gambe mi tremavano e avevo paura proprio di guidare lo mio 500 perché c'era un esodo, le persone trascinavano materassi, mobili, per scappare e poi portare magari qualcosa presso i parenti dove poter alloggiare la notte. Queste le testimonianze, le voci rotte anche dall'emozione di quei giorni che non sono chiaramente cancellabili, dimenticabili. Mi chiedono le previsioni del tempo al 3493918169, io ve le faccio, ma solo dopo aver dato un'occhiata alle previsioni di quelli bravi del nazionale, che giustamente hanno mezzi migliori dei nostri, si scherza chiaramente, Buongiorno Italia, è un programma simile al nostro, chiaramente lo fa la RAI, quindi con molti più mezzi. Vai, linea al Meteorologo, è un video virale, sentiamo. Vai, vai Meteorologo, vai. E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, ma io l'ho letto sto domenica, da martedì, da mercoledì. L'ho letto dopo? In diretta, eh? E diceva Luca, ma Alexa è pazzita, mi mette musica inglese. Luca Ciceroni evidentemente non ci... Luca Ciceroni evidentemente ha fatto una figurona, si scherza chiaramente, è capitato anche a noi, ci può stare. Le facciamo così invece noi le previsioni del tempo, parlando del meteo, tra l'altro, non di Alexa, con la pioggia, in realtà forse perché c'è poco da dire. Pioverà, pioverà con tanto freddo su tutte le marche oggi, idem con patate nella giornata di domani, giovedì 15, un leggero miglioramento venerdì, un oasi nel deserto, perché non pioverà, tranne che, amici amici del Pesarese, chiedovenia, ma pioverà solo da voi venerdì. Sabato 17 invece tornerà la pioggia su tutte le marche, con qualche spiraglio su Ancone e Pesaro, domenica 18 invece sarà una bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. Quindi lo shopping, che sia, come auguro, nel negozio sotto casa o che sia nei grandi centri commerciali, va bene lo stesso, decidete voi, lo potete fare venerdì e domenica, così siamo stati proprio precisi, precisi. Intanto tenta un pallido sole di fare capolino, guardate per esempio Porto Sant'Elpidio, io volevo portarvi anche alle situazioni lungo l'autostrada, lo farò tra poco per capire quale sia l'aria che tira, per esempio a Porto Sant'Elpidio già ci siamo, un po' di foschia lungo la 14, velocità massima in caso di nebbia 50 km orari. Attenzione, ancora pagine interne, vediamo di raccontarvi questa storia qua, che vi ha fatto un sacco arrabbiare. Nella zona di Camerino l'accorpamento di due istituti scolastici, il Consiglio Comunale che dice no, non ci stiamo. Ad Ancona invece la questione del freddo, del grande freddo. Non c'è pace per gli alunni della Antonini, costretti prima al trasloco e adesso anche al freddo. In Via Veneto stanno in classe con giacca e cappello, risolto con piccoli accorgimenti, spiega l'assessore Manarini, il restyling intanto dell'Antonini procede. Eccolo qua, il cantiere della scuola Antonini, l'assessore Manarini cerca di spiegare, non c'è pace però per i piccini della scuola, costretti al trasloco per via dei sussulti del terremoto, ora devono difendersi anche dagli attacchi del freddo. Le scuola Antonini avranno insomma un iter per la ricostruzione piuttosto lungo e articolato. Le pagine interne anche per il maceratese, detto e mostrato del picco che non è ancora tale dell'influenza ma siamo già a centomila casi accertati. Per le pagine interne si parla di macerata del restyling, della torre civica, della bellissima torre civica. E con questo specchietto spieghiamo un po' tanti i lavori che verranno fatti, per esempio allo sferisterio arriva l'impermeabilizzazione, parola difficile ma facile da comprendere, impermeabilizzazione delle gradinate. Torre civica, il progetto illumino tecnico per valorizzare appunto la torre civica, quando inizieranno i lavori a gennaio. E poi Palazzo Buonaccorsi, sistemazione e prevenzione delle infiltrazioni che si sono verificate nel cortile. Una notizia tra sport e cultura, bella, mi piace, lo schiacciatore Nikolov speciale matricola UNIMC, l'enfant prodige della Lube, accolto in Ateneo dal rettore McHourth. Una nuova matricola, ma è un po' particolare, intanto si becca subito perché è alta due metri. Una nuova matricola internazionale per l'Università di Macerata. Si tratta di Aleksandar Nikolov, bulgaro di 19 anni, schiacciatore, un fan prodigio della Lube Volley, che si è iscritto all'Università di Macerata e mi pare una scelta molto molto bella che possa essere un messaggio virtuoso verso chi certamente prova a vivere di sport, ma anche, perché no, di cultura. Non di solo pane vive l'uomo, c'è anche il companatico e 1500 euro per i lavoratori, non sono roba da poco. Eccola qua, è la scelta, e qui siamo già nella zona di Pesaro, Urbino, è la scelta dell'azienda Morello, il grazie ai dipendenti in busta paga. Grazie, grazie per il vostro lavoro. Sì, sì, ma c'è qualcosa di più? Sì, ci sono anche, oltre al grazie, 1500 euro. Non tutti i datori di lavoro lo stanno facendo, il mio datore di lavoro non sta facendo niente, non è obbligatorio, non è obbligatorio, ve lo ricordo, è una facoltà del datore di lavoro. Lungofoglia, non solo zone 30, multe e vigili contro chi corre l'appello del Presidente di Quartiere e Poderi, nodo velocità, anche a Villa Fastigi. Su questa zona purtroppo tante volte abbiamo raccontato di incidenti stradali, adesso si interviene così. Ho confermato poco fa, purtroppo, ancora nuovi ordigni bellici, bombe d'aereo vicino al relitto. Siamo in mare davanti al San Bartolo, ma il baltempo ha fatto rinviare l'intervento. Tra poco andiamo ad Ascoli. Intanto auguri Giada per i tuoi 15 anni. Grazie per questo bellissimo messaggio. Mandaci anche una foto di Giada, con piacere la mostreremo. Oggi, purtroppo, su tutti i giornali locali c'è una storia tristissima proprio legata ad una ragazza di soli 15 anni che anche lei poco fa aveva festeggiato il compleanno. Muore a 15 anni donati gli organi. Shock e dolore per questa ragazza, una studentessa di Monte Urano. Molti hanno chiesto come sia possibile questo dramma, cosa sia successo. Ha avuto un malore. Poi la corsa in ospedale. Per lei non c'è stato, ahimè, nulla da fare. Il miraggio della curva mobile dalla notizia della ragazza di 15 anni allo sport, o meglio, alle infrastrutture sportive, perché i disordini durante Ascoli Genoa con le due tifoserie pericolosamente vicine hanno riproposto il tema sicurezza allo stadio del Duca. Palazzo Arengua è disponibile solo ad accelerare le autorizzazioni per favorire il montaggio, senza dunque interventi dal punto di vista economico. È anche un momento un po' complicato. Eccola qua. Curva mobile al del Duca, il nodo del finanziamento. Guardate gli scontri che si sono verificati proprio nell'ultimo match in casa contro il Genoa. Gli aiuti per il caro bollette. Diversi cittadini di Ascoli ci hanno chiesto ma allora come si fa per avere questi soldi? In soldoni, diciamo, bisogna andare a contattare l'ufficio relazioni col pubblico del comune di Ascoli. Ci sono questi aiuti. Per ottenere il contributo, caro bollette, ci sono delle regole contro i furbetti. Il richiedente dovrà esibire la copia del contratto di luce e gas. La domanda potrà essere presentata da un solo componente familiare, non da due o tre componenti familiari, anche perché se no si rischia di ricevere diversi sussidi. Potranno festeggiare il nuovo anno con un contributo, con un aiuto della Rengo, e questo è importante, per fronteggiare il caro bollette, tutti coloro che con redditi familiari sotto ai 14.000 euro, presenteranno la richiesta entro il 30 dicembre. Poi, dopo il saltar dei tappi, i brindisi, a inizio 23, il comune di Ascoli pagherà, darà questi aiuti economici. Però attenzione, non bisogna approfittarsene troppo. Ancora messaggi. Buongiorno. Ricordo perfettamente i giorni della franna dell'82. Ci scrive Cinzia da Pesaro. Mia nonna, che abitava a Posatora, ha avuto salva la casa per miracolo. Dal lato opposto della strada era tutto distrutto, compreso l'ospedale geriatrico, che in quegli anni si trovava proprio là. Un disastro per tante famiglie. Grazie Cinzia. Sì, venne distrutto anche l'allora oncologico, che era un'eccellenza a livello nazionale. Adani, come giocatore, valeva poco. Come commentatore, non si può sentire. Ciao da Saverio. Grazie, caro Saverio. Lele Adani è al centro in queste ultime settimane di molti commenti perché sta affrontando la sua modalità da seconda voce con un timbro tutto suo. Ma chi lo conosce dai tempi delle TV private a pagamento da Sky in giù sa che questo è il suo stile. Non c'è nulla di nuovo. Il punto è, ma in Rai lo può fare. Un conto è uno che paga l'abbonamento, sceglie di. L'abbonamento invece Rai non è proprio una scelta, è un obbligo di legge per chi possiede il televisore. Per cui perché io devo pagare per uno che dice scarta anche i cammelli del deserto, è il nuovo messia. Insomma, parole un po' particolari, colorite, dedicate al suo idolo, Leo Messi, che intanto ieri ha fatto una prestazione mostruosa. Siamo un gruppo pazzesco, godiamoci la finale. Insomma, sulle Lele Adani si può discutere. Per fortuna è un tema non così serio, grave e importante. Saluto ancora gli amici di Sei Marchigiano Se che ci stanno seguendo. Intanto voglio salutare anche chi ci segue dalla pagina Facebook. Buongiorno da Silvana, da Claudio, da Claudia, da coloro che ci chiedono anche informazioni legate alle news di livello regionale come questa qua. La scuola Camerino dice no, Camerino Unita contro l'accorpamento delle scuole Antignori e Pocognoni. Voto unanime del Consiglio Comunale, ma mi devo fermare. Grazie, tra poco se avete piacere state con noi. Ottica Leonardo, presente ad Ancuna da 30 anni, è sinonimo di accoglienza e professionalità. Montatore delle marche più prestigiosi, personale qualificato ed esperto nella visione a tua disposizione e laboratorio interno con strumentazione innovativa per personalizzare ogni occhiale. Ottica Leonardo, accoglienza e professionalità da tutti.